Mister, 4-1 netto del Francavilla, una gara che alla fine ha detto che il Francavilla è una squadra forte, ben quadrata, ben messa in campo. Sì, mi fa piacere che dici questo, abbiamo fatto una partita importante su un campo che, ripeto, per me è uno dei più difficili della categoria. Quindi venire qui e fare quattro gol non era facile, penso che sul campo abbiamo meritato la vittoria e quindi andiamo avanti con fiducia. Non avete concesso praticamente nulla all'avversario, avete chiuso bene i varchi a centro campo, avete avuto tra l'altro un possesso palla notevole. Sì, siamo stati corti, aggressivi, siamo stati bravi a limitare quelli che erano poi i punti di forza del Giulianova, cioè Tozzi Borsoi, Napolano e Di Paolo, che sono giocatori importanti. Siamo stati attenti anche sui piazzati, sono cose che il Giulianova sfrutta tantissimo. Abbiamo lavorato bene in settimana e il risultato è che hai fatto una grande gara. Sono tre punti che valgono per la classifica ai fini della salvezza oppure guardate la zona playoff? Noi guardiamo sempre avanti, è normale che questo Francavilla sia stato costruito per cercare di entrare nei playoff e l'obiettivo mio con la squadra è di farli andare dentro i playoff. La sua squadra è apparsa tra l'altro anche bene, atleticamente, in salute rispetto al Giulianova? Sì, molto bene fisicamente ma diciamo che stiamo bene fisicamente da parecchio. Il Giulianova nel secondo tempo è un po' sceso, ovviamente ha fatto le tre partite una settimana, le ha pagate soprattutto nell'ultima mezz'ora. Però ripeto, io guardo in casa mia, guardo la prestazione che è una prestazione di livello. E con un'ultima domanda, Rachini doveva sedere sulla panchina del Giulianova? Ma mi dispiace per quello che è successo oggi, diciamo, aver preso un po' di parolacce al di fuori, però io Giulianova è sempre una piazza che ho apprezzato, ho parlato sempre benissimo di questa piazza perché per me è una delle più importanti di questa categoria. Purtroppo questo è il calcio e si guarda avanti ovviamente con un po' di amarezza.